E' emozionante, è veramente emozionante. Eh sì, è forte, è perfino lacerante. Era la casa, quando uno dice la casa, la prima casa, no la seconda, la prima casa. Mi ha insegnato la vita il partito, mi ha insegnato la vita, mi ha insegnato i valori della vita. I compagni nostri erano, era la famiglia. L'aspetto umano del Berlinguer era straordinario, straordinario. Cioè era una persona che rispettava tutto e tutti. Se poi ci mettiamo a discutere Berlinguer, quando andavo in Sardegna, allora era tutto un altro Berlinguer. Non ci capiva più niente. E' difficile poter discutere o poter capire queste cose. Però questa era la casa nostra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.